Ciao! Oggi finalmente vi faccio una delle ultime, ne mancheranno ancora due, credo, degli episodi del Signore degli Anelli, degli Anelli del Potere, e comunque che è lui, si intitola lui dov'è? È il sesto episodio, gli Anelli del Potere, e a me è piaciuto, è piaciuto molto, diciamo che sono molto bravi, e loro sono veramente bravi, a parte che io sto adorando tantissimo, ragazzi, i costumi, cioè io amo quei costumi, il make-up, come sono fatti, veramente sono bellissimi, e loro sono veramente bravi, specialmente, scusate, non mi ricordo l'attore che interpreta Sauron, loro, lui è veramente, veramente bravissimo, e anche comunque tutti, secondo me, sono bravi, perché comunque la serie, cercherò di non fare spoiler, no, cercherò di non fare spoiler, vi dirò, diciamo, se faccio spoiler non lo dico, diciamo che sono arrivati ad un punto che comunque è difficile tenere un controllo della situazione, e i personaggi devono, stanno, come dire, cambiando il loro modo di pensare, specialmente dai nani, e chiaramente gli elfi, forse, chiaramente essendo elfi, sono gli unici che mantengono il controllo, perché comunque loro hanno una certa, non hanno, hanno, sono esseri sovrannaturali, quindi chiaramente non hanno, poi ci sono i nani, e i nani purtroppo, e i nani purtroppo stanno un po' sbarellando, cioè il re Durin che comunque sta andando fuori. E siamo arrivati per l'appunto che Sauron, per l'appunto Sauron chiedeva il Mithril, andava a chiedere il Mithril ai nani, proprio per, proprio per forgiare i tre anelli che rimangono da fare per gli uomini. Celebrimbor chiaramente non è d'accordo, lui tenta di, come dire, di resistere, tra virgolette, si può dire, dire no ad Anna, Tarly, Sauron, di dire no, di dire no, guarda, questa cosa non si può fare perché sta andando oltre, sta degenerando, e quindi chiaramente lui continua a dire no, guarda io mi rifiuto, mentre Sauron, sapendoci fare, chiaramente dopo a lui gli mancava il Mithril, e mancando di Mithril diciamo che per Celebrimbor era una, puoi dire scusa per non continuare, perché lui non era già d'accordo di suo, perché sapeva che comunque, ragazzi, gli uomini sono esseri umani, che sono, cioè, sono come i nani, che i nani comunque si accontentano delle loro miniere, diciamo che sono persone umili, anche se comunque hanno un loro re, però sono persone umili, sono persone che lavorano gli scavi, la montagna, eccetera, e quindi diciamo che non vanno in guerra, quindi chiaramente né elfi, e come vi ho ripetuto l'altra volta, né elfi, non vanno in guerra né nani, né hobbit, né pelopiedi, cioè non sono razze che vanno in guerra, perché a prescindere da la loro stazza, che non glielo permette, chiaramente, purtroppo, e cioè nel senso purtroppo, hanno un fisico che evidentemente, che non hanno l'acqua, non possono combattere in guerra, non sono loro pari, chiaramente solo gli uomini e gli elfi possono combattere, però gli elfi, diciamo, come vi ho detto, hanno un certo autocontrollo, perché loro, essendo esseri sovranaturali, sovranaturali sono esseri, diciamo, al di sopra dell'uomo, hanno un certo autocontrollo, e chiaramente invece l'uomo, che è l'essere umano, diciamo, per eccellenza, è alla mercè della corruzione, della rabbia, di farsi travolgere dai sentimenti totalmente, insomma, quindi praticamente che le Brimbor si continuano a rifiutare a questa cosa, però chiaramente Sauron, ragazzi, sappiamo che, come l'avevano lasciato, lui, anche dicendogli, non ho, come dire, anche dicendogli, no, guarda, è finito il Mithril, bisognerebbe andarlo a chiedere ai nani, e io però, comunque, anche se è finito, non ho intenzione di forgiarli. Sauron cosa fa di persona? Di persona va a chiederlo ai nani a casa Doom. Re Durin non lo fa, perché questo? Non è perché, chiaramente, anche il figlio Durin, il principe, gli dice, hai fatto bene, pensavo invece no, il papà gli dice, no, anzi, non è che non gli ho dato il Mithril, perché, per forgiare altri, e perché lui voleva, adesso, ecco, mi fermo qui, faccio spoiler, poi vabbè, me lo scriverò sotto, sì, me lo scriverò sotto nel titolo, faccio spoiler, e perché voleva guadagnarci, voleva guadagnarci nella guerra, mi sembra, voleva, beh, voleva trarne giustamente, profitto dalla guerra che incombeva, che Sauron, stava incombevendo sulla terra di mezzo, chiaramente, lui, avendo il Mithril, con le armi, gli chiedevano le armi, il Mithril a lui, e forgiavano le armi, chiaramente, quindi, era più, si sentiva, si, ne voleva trarre sempre più profitto, non era perché non l'ha dato a Sauron, per questi cazzo, sugli anelli, allora, e il figlio gli dice, ascolta, ma sei fuori, o sei scemo, cioè, sei scemo, cioè, voglio dire, va bene tutto, però capisco che noi, ci ricaviamo il Mithril, ovviamente, mangiamo, grazie agli profitti, che, ricaviamo magari l'oro, le pietre, il cavolo, la, non so, a metalli, che ricaviamo dalla montagna, eccetera, ma, ricavare, un, cioè, profitti dalla guerra, che sta, incombendo, fu a terra di mezzo, e facendo forgiare armi, per, le persone, che, mi sembrano tantino, non crudele, un po', avida la cosa, no? È un conto, se tu, come è giusto che, sia, vabbè, lui non avrebbe accettato comunque, come se, Anni, Anna Tarsauron, cavolo è, che le ha chiesto il mitri per gli anelli, lui, ha fatto sembrare, che fosse più umile, nel chiedergli il mitri per forgiare degli anelli, e, già lì non era d'accordo, perché, comunque, cioè, capisco tutto, però, per forgiare tre altri tre, a parte che, comunque, duri il figlio, il principe, sta, ha capito, che, l'anello, che porta il papà, al dito, c'è qualcosa che non funziona, perché l'ha cambiato, totalmente, da quando l'ha messo, quindi, chiaramente, succede un certo momento, che gli dice di toglierlo, ma, no, guarda, ormai l'anello è mio, e tu, te ne vai a quel paese, ecco, detto in sostanza, ma, ecco, te ne vai a quel paese, quindi, bene o male, lui, già il figlio, non voleva, ma per questo motivo, perché aveva capito, che gli anelli, erano forgiati, sì, con un, con il metallo elfico, però, c'era qualcosina, che, un ingrediente, che ci aveva messo, quell'altro, che, non, non, non era tanto, non è tantino, non è molto, cioè, non è molto efficace, sulle persone, quindi, per quello, però, inizio, però, lui viene, ingannato da, tra virgolette, ingannato, perché suo padre, non vuole far forgiare gli anelli, ma se lo vuole tenere per sé, per forgiare armi, e non va bene comunque, quindi, siamo sempre lì, e poi, invece, torna da Celebrimbor, e, per l'appunto, Celebrimbor, vede, che sta incombendo, la, la guerra, sulla terra di mezzo, e ha paura, dell'assedio, e, chiaramente, scusate, dico troppi, chiaramente, diecimila volte, e, incombie sulla terra di mezzo, ma Sauron, gli crea un'illusione, gli fa vedere, che è tutto a posto, di qua, di là, di su, di giù, e gli dà il Mithril, il Mithril, che comunque, non si sa, dove l'abbia preso, sono sincera, non si sa, non so se, anzi, quando andava dai nani, a chiedergli il Mithril, a chiedergli il Mithril, lui, è rimasto soddisfatto, comunque, perché, mi sembra, è rimasto soddisfatto, è andato via, sorridendo, ma perché, comunque, lui, abbia avuto una visione, non so chi la perce, non so se voi l'avete vista, ha avuto una visione, in uno specchio d'acqua, adesso credo, della visione del Barrog, che questo si riprende sempre, nel Signore degli Anelli, la Compagnia dell'Anello, quello che, che era, quello che, combatte contro Sauron, non che Sauron, Gandalf, capito, quindi, molto probabilmente, caro Barrog, farà la sua parte, farà la sua parte, quindi, perché, non ha, se ne è andato via, se ne è andato via, sorridendo, vuol dire che, comunque, anche se non gli è andato il Mithril, sappiamo bene tutti, che i Nani, come la trovano, Moira, è Moira, marronami, Moira, scusate, casa Doom, quando arriva la Compagnia dell'Anello, che arrivano gli Orchi, che alla fine ci sono gli Orchi, la trovano in stato pieto, che non c'è più nessuno, quindi, lì, si sa, si capisce, che c'è stato qualcosa, che ha distrutto tutto, quindi, molto probabilmente, una parte l'ha fatta il Barrog, però, io, sono sincera, non ho capito, da dove lo tira fuori, ritorna, da Celebrimbor, e non ho capito, da dove lo tira fuori, ma gli dà il Mitril, molto probabilmente, lui questo Mitril ce l'aveva già, però, non lo so, lo voleva, voleva, in un certo senso, essere onesto, con Celebrimbor, però, ha visto che non mollava, e quindi, ovviamente, gli ha detto, guarda, mi hanno dato il Mitril, e, ti dico, guarda, qui va tutto bene, perché gli ha creato questa illusione, che non succede niente, qui va tutto bene, e, in un certo senso, tu però, continua e finisci il lavoro che devi fare, e così, la cosa si chiude, la puntata si chiude, con Sauron, tutto felice e contento, che, con, che arrivano, le cannonate, dagli orchi, dagli orchi, su, sulla cittadina elfica, ora, ho fatto un po' di macello, comunque sotto gli scrivo, ci sono gli spoiler, non è niente, e, però, comunque, mi è piaciuta, a me, mi è piaciuta, molto, perché, sì, diciamo che, qui si vede proprio, che, finalmente, finalmente si sta, allora, non credevo, che gli anelli, dei nani, potessero, facevano, li facevano sbarellare, così presto, diciamo che non credevo, che anche gli anelli, che gli davano, avevano lo stesso effetto, dell'unico anello, diciamo, l'unico anello, era quello, che li governava tutti, però, credevo che, bene o male, erano anelli, che, sì, anelli, diciamo, gli anelli del potere, però erano anelli, non benefici, ma in un certo senso, molto meno facevano, che l'unico anello, però, vabbè, comunque, le tematiche sono le solite, qui, vabbè, si aggiunge la guerra, la distruzione, la corruzione, e tutto, diciamo che, sono, 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 sono quelle, perché, cioè, non c'è, si arriva al limite, si sta arrivando verso la fine, e niente, ditemi voi, poi, non c'è più nient'altro da dire, credo che abbia finito, non c'è, ditemi voi, quello che ne pensate, qua sotto, vi ripeto, con calma, sì, perché, non so, vedo, vedo, adesso magari, si è calmata la situazione, si è calmata la situazione, però, prima, per questa serie, stava venendo fuori, boh, non so, la, 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 l'uragano, peggio, del, vabbè, dell'alluvione, comunque, vabbè, ora, vi saluto, fatemi sapere, quello che pensate, e niente, ciao.